E' una cosa è Bruno? E' un'inizio di questa nostra celebrazione e perdono. Al vedere la buonanza essi gioirono e vedi a favore degli uomini. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Viola, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Ammè. La pace sia con te. La nostra preghiera in quella unità è per mezzo di essi e di loro successori. Hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa. Esodisci la nostra preghiera. E continua oggi nella comunità dei credenti. Ti prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo, il nostro Signore. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Ecco, la prima volta che mi recco qua nella parrocchia di Chiama, mi sembra un momento molto interessante, bello, due cresime, dunque due confermazioni in questa piccola comunità che così offre tutta la sua vitalità. E poi molto bello sia la processione che abbiamo fatto insieme e anche quel ricordo di Monsignor Lavagnino, così caro un po' a tutti noi, che da poco è salito al cielo, ma che veramente rimane in noi con la fede e anche con quella sua intercessione paterna che ha sempre avuto. Dunque un'esperienza veramente bella, una comunità viva, piccola però vivace, dunque veramente un futuro sia per la zona sia anche un po' per la nostra fede.